ciao fragoline nuovo video allora facciamo un tag dei capelli perché mi ha tagato ricette risate in pochi minuti per cui ringrazio che mi ha tagato in questo tag e allora le domande sono 12 per cui prima che io parlo troppo direi di iniziare così rispondiamo tutte le domande però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivare la campanellina così non vi perdete neanche un solo video quando escono sul mio canale lasciarmi un commentino qua sotto se volete che faccio altri tag che sono molto belli da fare sinceramente se volete seguirmi su instagram vi aspetto anche lì e un like a questo video se vi piacciono queste tipologie allora iniziamo prima domanda capelli lunghi corti o media lunghezza allora come vedete io ho i capelli quasi lunghi mi arrivano praticamente qua quasi ho i capelli lunghi per cui a me piace avere i capelli lunghi li sto facendo crescere per cui calcolate che le vorrei molto più giù quasi all'ombelico perché ho visto una ragazza che aveva i capelli lunghissimi bellissimi e li vorrei anch'io non è facile farli crescere per cui dato che a me piacciono i capelli lunghi li voglio far crescere tanto è difficile diciamo lavarli ma c'è farli diventare lisci eccetera diciamo specialmente in estate in estate quando fa caldo è una cosa bestiale però a me piacciono poi preferisco come vedete averli lunghi per cui lunghi seconda domanda ricci o lisci allora io da piccola avevo i capelli risci adesso una via di mezzo perché quando li lavo i miei capelli diventano un po ricci poco beh adesso non sono ricci comunque io preferirei cento volte meglio i capelli lisci perché sono più facili da diciamo tenerli con cura che i capelli ricci ricci è difficilissimo secondo me tenerli per cui preferirei lisci non so perché mi tocca i capelli comunque terza domanda ti piace il colore dei tuoi capelli allora sinceramente no perché io da piccola ero bionda adesso sono diventata castana chiara per cui ho un castano chiaro solo che ho fatto la tinta ho fatto diciamo queste cose qua ho cambiato colore mi sono un po pentita perché non mi piace questo sbalzo di due colori diversi perché ho due colori diversi per cui vorrei andare dalla parrucchiera e farmi cambiare colore per cui diciamo che non mi piace tanto il mio colore sto trovando un colore che mi piace su di me ma ancora non l'ho trovato quarta domanda ti piace comunque cambiare taglio colore dei capelli o fare qualcosa di più particolare sì allora il taglio no il taglio guai se qualcuno mi taglia i capelli l'unica cosa che posso tagliare le punte devo le punte ovviamente sì è l'unica cosa che taglio sulle punte ma proprio poco diciamo pochissimo c'è così ma non tanto invece il colore dei capelli vabbè ho detto prima mi piace cambiare colore ma su un castano forse scuro non lo so fare qualcosa di in particolare sì voglio farvi voglio fare una cosa che non l'ho mai fatta l'ho vista su internet infatti vi metto quella foto praticamente è un fiocco carino qua in mezzo alla testa sotto un po un po basso è un fiocco fatto proprio con i capelli per cui vorrei trovare qualcuno o la mia parrucchiera o anche mia nipote che fa la parrucchiera se riesce a farmi questa conciatura qua per cui la vorrei provare a farla perché è bellissima per cui quella che vedete in foto vorrei cambiare e fare qualcosa di particolare di diverso che non ho mai fatto mi piacerebbe sinceramente quinta domanda ti piace andare dal parrucchiere a me sì preferisco andare dal parrucchiere che farmi i capelli da sola perché uno li rovino due non sono brava a fare le tinte a parte vabbè sì le ho fatte e le sto facendo a mia mamma ma non lo so non mi convince cioè forse agli altri sì ma a me no su di me no e per cui sì mi piace andare dal parrucchiere non so perché mi delungo ogni volta che devo rispondere o dire qualcosa comunque stessa domanda quanti parrucchieri hai già cambiato due parrucchieri allora la prima parrucchiera quando andavo da un'amica di mia amma poi alla fine mi sono un po stufata perché mi piaceva più alla fine ho cambiato parrucchiere sono venuta in un'altra parrucchiera che questa è una mia amica praticamente per cui due parrucchieri 7 c'è qualche maschera balsamo spray o altro che ti che ti sta piacendo allora sì infatti ce l'ho qua ve lo faccio vedere quello che mi piace di più come già detto come vi ho fatto la recensione è questa qua che si chiama juveda questa di cinque elementi 250 m praticamente questa maschera che ha un buon profumo infatti l'ho quasi finita e devo andare da parrucchiera a prenderla perché senza questa non so come fare perché mi fa i capelli belli lisci mi durano anche più di quattro giorni e li tiene sempre lisci perfetti luminosi è una bomba questo costa 60 euro è di 250 ma è una bomba per cui questo è il mio preferito e devo ritornare di nuovo la mia parrucchiera a prenderlo per cui questo qua poi 8 cosa ne pensi delle parrucchiere perché parrucchiere 8 cosa ne pensi delle parrucche allora delle parrucche non è che mi piacciono tanto c'è sì ma preferirei avere i capelli miei che avere le parrucche oppure l'extension almeno che non ti puoi permettere di far crescere i capelli o ai problemi per i capelli eccetera allora quello ok ma se hai dei bei capelli inutile secondo me mettere parrucche o extension per cui non sono male sono belle ma io ce le ho ma non le uso mai intero per cui sono belle non so cosa dire 9 preferiresti che ti regalassero un phon una riccia capelli una piastra o una seduta dal parrucchiere bella domanda io preferirei una seduta dal parrucchiere perché così non mi fa i capelli mi fa i capelli mi fanno loro i capelli e perché io ho tantissimi piastre tantissime aggeggi per i capelli ma diciamo che ogni tanto li uso ogni tanto no ma è difficile perché quando di poi andare dietro farli è complicato e allora preferirei 100 volte meglio andare diciamo una seduta dal parrucchiera 10 ti sei tagliato tu i capelli sì quando eravamo in quarantena ho tagliato i capelli ma c'è per farvi capire tagliare i capelli vuol dire tanto così praticamente le punte non mi sono tagliato proprio i capelli perché io non ho il coraggio di tagliarli tanto meno non mi piace tagliare i miei capelli per cui in quarantena l'ho fatto tagliato un po di capelli poco e però adesso vabbè si può andare dal parrucchiere per cui ovviamente vado dal parrucchiere se devo tagliare le punte non lo faccio io poi 11 li hai tagliati a qualcuno no a no beh sì se si può diciamo dire io ho tagliato i capelli il mio ragazzo cioè li sto tagliando perché lui non gli piace diciamo andare dal parrucchiere a spendere che ne so 25 euro un taglio allora risparmia se li taglio io infatti gli prendo la macchinetta e gli taglio i capelli una volta l'ho fatto anche con mio padre io ho tagliato i capelli mio padre però dato che il ragazzo preferisce che io gliele taglio allora diciamo che si taglio i capelli mio ragazzo credo che questa era una domanda in generale non penso solo alle femmine l'ultima domanda 11 ti è piaciuto e lo rifaresti anche qui non so se il tag o i capelli allora se il tag sì il tag mi piacciono e se sono carini diciamo che mi piace fare i tag poi se mi tag a qualcuno lo faccio anche volentieri per cui come ha risposto Mirella diciamo che anch'io sono un po in dubbio dicendo che cosa il tag che quando ho visto il suo video che ha fatto il tag è stato talmente divertente che mi sono messa a ridere in tutto il video quando rispondeva alle domande comunque sì rifarei questo tag mi piace per cui le domande sono finite non c'è scritto tag a chi vuoi però lo dico io diciamo che voglio taggare tre persone e poi se volete farlo tutti fatelo tutti perché a me piace che vedere diciamo i tag per cui taggo saramagic15 se vuoi farlo ti taggo poi betty82 e ilaria grasso queste sono le tre persone che voglio taggare se volete fare il tag mi fa piacere sono le uniche persone che seguo per cui se volete farlo e gli altri quelli che hanno visto questo video se volete diciamo fare anche voi questo video fatelo perché secondo me è divertente e è anche bello da fare se conoscete il tre tag o volete che io faccia il tre tag fatelo sapere sotto nei commenti che sono anche carini e niente spero che questo video vi sia piaciuto così faccio qualche diciamo video diverso qualche tipologia diversa detto questo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io mi sto già impappinando come sempre lasciatemi un like e un commentino qua sotto se anche voi vi piace i capelli tagliati lunghi corti non lo so quello che volete sotto qua nei commenti noi ci vediamo al prossimo video ciao